Domani sono 300 panchine, quindi io inizierei con questo un po' bilancio di... cioè entra ufficialmente nella storia, anche se vabbè c'era già entrato per l'Europa, però adesso per sempre sarà ricordato. Come sono andate queste 300 panchine? Poi magari vede delle analogie con l'inizio, cioè adesso c'è un'altra Atalanta con un'altra veste altri giovani che in effetti stanno lanciando e a quante panchine vorrebbe arrivare con l'Atalanta? Quelle non lo so, tantissime, ma intanto rimaniamo a queste, già fare il record di panchine per questa società, per me è una storia bellissima, che mi ha cambiato la vita, è una cosa meravigliosa quello che è successo qui a Bergamo, e quindi è un record di cui sono particolarmente orgoglioso, è una cosa che rimarrà a lungo e comunque entro a far parte di questa società a tutti gli effetti, quindi anche se mi sentivo parte, però è comunque un qualcosa che lo certifica. Speriamo di farne, chi lo sa, quando sono partito non sapevamo quale potrebbe essere la storia, e io devo solamente ringraziare veramente tutti quanti per tutti questi anni così belli, la società, il presidente, la sua famiglia, tutti quanti i giocatori, il pubblico, è qualcosa di meraviglioso, adesso cerchiamo di guardare avanti e di vedere perché fino ad adesso è sempre stato un qualcosa increscendo, adesso è una nuova fase, non sappiamo dove possiamo andare, però anche questa è una stagione che è partita bene, domani abbiamo una partita molto bella, molto importante da giocare, ci arriviamo in un buon momento, nello stesso tempo stiamo cercando di ridare nuova energia, nuove volti, una nuova fisionomia a questa squadra, insomma, alla fine c'è sempre tanta carne sul fuoco, c'è sempre tanti obiettivi da raggiungere, questo è quello che rende bello anche il nostro mestiere, sempre la possibilità di poter guardare avanti e anche questa storia qua con l'Atalanta. Ciao Gian Piero, voglio sapere che sensazione ti fa quando senti dire che l'Udinese può essere la nuova Atalanta. Beh, effettivamente c'è del vero, nel senso che l'Udinese è un punto dietro a noi, però per quelle che sono state queste otto partite, gode di una considerazione superiore forse alla nostra, anzi sicuramente in questo momento, ed è una considerazione che si è conquistata in campo, in queste partite che ha giocato, nel modo con cui ha vinto partite anche contro squadre l'Inter, la Roma, eccetera, e quindi è giustificata. Noi nello stesso tempo siamo lì davanti, però sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di crescere la nostra autostima, avere maggiori consensi di gioco, perché di risultati è quasi impossibile fare di più, però di crescita, di gioco, di qualità di squadra, quindi andiamo alla ricerca di questo anche domani. Buongiorno mister, volevo fare il punto sui giocatori disponibili per la partita di domani, quindi se gli infortuni, gli acciacchi sono quelli storici, quindi non ci sono stati altri tipi di problemi questa settimana, e sapere se De Miral l'aveva recuperato al 100%, visto come erano andate le due settimane scorse con gli impegni nazionali. De Miral si è allenato tutta la settimana, ha recuperato, ha avuto un acciacco mele, ma anche lui una contusione all'inizio della settimana che l'ha tenuto fermo qualche giorno, ma adesso ieri ha recuperato, e gli altri sono gli infortuni che conoscete, Zappata, Gym City, Toloi, Zappacosta, sono questi che ci vorrà. Adesso il più vicino probabilmente Gym City, che martedì potrebbe aggregarsi alla squadra, e incominciare ad allenarsi con la squadra, però viene da una frattura al perone, però sta già facendo bene. Duvan ha aumentato un po' i carichi di allenamento, vediamo la prossima settimana, e per Zappacosta e Toloi i tempi sono un po' più lunghi. Mi dispiace molto per Toloi perché era un momento straordinario di prestazioni, però dobbiamo aspettare. Ciao mister, mi ricollego alla domanda di Matteo sugli infortunati. La considerazione è questa, l'Atalanta è prima, imbattuta, sta giocando un grandissimo calcio, pur mancando di sei titolari più o meno, e di alcuni giocatori che hanno veramente fatto il termine della storia in questi anni. Penso a Zappata, che è stato veramente il trascinatore offensivo in questi anni. Eppure, nonostante questa assenza, se ne parla poco, l'Atalanta è prima, pur avendo perso questi giocatori, almeno per questa prima fase. Beh, questo è un merito ancora maggiore dei giocatori, che comunque chi ha giocato ha saputo sopperire a delle assenze così importanti, perché se ci vogliamo poi aggiungere anche Palomino, sono tutti giocatori di spessore. E questo, da una parte, è una soddisfazione, perché ci costringe anche a crescere velocemente Ocoli, Scalvini, e poi c'è un gruppo, non so, Deron, Comainer, lo stesso Atteborg, che mi sembra che stia crescendo molto, Lucio, che Morial, che con la Fiorentina ha fatto anche una partita anche di ottima condizione. Ci sono quelli nuovi che sono arrivati, che saltuariamente, Lokman, magari con più continuità, gli altri un po' da uno, un po' dall'altro, un po' da tutti quanti, chi viene impiegato riescono a portare comunque, magari non con la stessa continuità dei primi, però riescono a portare qualcosa di importante. Questo è molto positivo, sarà così anche domani. È chiaro che in questo momento abbiamo un po' di emergenza, soprattutto dietro, un po' a centrocampo, però stiamo sopperendo bene con le prestazioni di questi giocatori. Buongiorno, mister. Insomma, ha parlato della considerazione di cui gode l'Udinese. Che partita si aspetta domani? Pensa che l'Udinese possa modificare un po' il suo tipo di approccio, oppure pensa di trovarsi l'Udinese che abbiamo visto in queste prime otto partite? Mi aspetto la migliore Udinese perché arriva sicuramente in un momento di grande entusiasmo, con sei vittorie consecutive, molto importanti. Nello stesso tempo anche noi arriviamo sicuramente con molte motivazioni. Vincere a Udinese domani sarebbe una bella iniezione di autostima importante. Sappiamo però della difficoltà e della forza di questa squadra. Per me è una squadra molto forte. Molto forte per come gioca e anche individualmente è composta da giocatori forti, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. è una squadra che non sarà una meteora, una squadra che giocherà fino alla fine nei quartieri alti, almeno quello che penso io, nei quartieri alti della classifica, al quale ha aggiunto anche una qualità di gioco importante. Quindi per noi è un test, così come quando abbiamo giocato col Milan, con la Roma, col Torino, con la Fiorentina, è un test di una delle migliori squadre del campionato. Per noi sarà molto importante misurarci e vedere anche noi a che livello siamo. Ciao mister, due domande. La prima è, viste le difficoltà della difesa, che è il reparto più falcidiato dalle assenze, se è ipotizzabile la difesa a quattro, considerata anche la forza dell'Udinese, soprattutto sui tiri da fermo. Sì, è una soluzione anche quella, vedremo ancora, stiamo provando tutte e due le soluzioni, però non è che cambiano molto, cioè nella difesa a quattro non è che utilizzo sempre degli esterni così offensivi, come quando fanno i quinti. Però, insomma, noi, è vero che ci mancano tre giocatori importanti dietro, però è anche un'occasione di forte crescita per i giocatori giovani, che stanno facendo bene, recuperiamo De Miral, ci abbiamo anche ancora Ruggeri da poter inserire, che sta lavorando bene, e quindi alla fine riusciremo a essere comunque con tutte le soluzioni possibili. E la seconda, l'altro giorno in conferenza stampa parlavi della rosa ampia, voglio sapere a che punto è il reinserimento di Bogà, visto che è amichevole, insomma, mi sembra che giochi sempre, segni, lo vediamo meno presente durante le partite, come sta, come gioca, come lo vedi? Lui è comunque a disposizione, è comunque un giocatore importante che si alleni bene, che faccia vedere in allenamento le sue migliori qualità, poi dopo noi lì davanti, in questo momento abbiamo trovato delle soluzioni positive, con Muriel, con Lokman soprattutto, quindi poi c'è Malinowski, c'è Hoyland, arriverà il momento anche per lui, bisogna che si creino le condizioni in partita necessarie, quando avrà la possibilità, è chiaro che lui ha bisogno di recuperare credibilità un po' in tutti, e lo può fare solamente attraverso le prestazioni, quando ci sarà la possibilità di farlo. Buongiorno mister, due domande, intanto cosa ci dice di Sottil, è un allenatore che ha fatto molta gavetta, che è arrivato adesso alla grande occasione con la Serie A, ma sta dimostrando di far benissimo. Ma io non mi chiedevo per lui, parlano i risultati, parlano quello che sta facendo l'Udinese adesso, è una squadra molto propositiva, a me piace molto come il tipo di svolta che ha dato a questa squadra, che è quasi la stessa dell'anno scorso, sono giocatori che sono già lì da qualche anno, hanno cambiato forse qualcosa dietro, ma Delefeo, Beto, Socces, anche i centrocampisti, Per Eira, era già lì, Udogi, era già lì, Becao, insomma, ha dato veramente una svolta di mentalità e anche tattica a questa squadra, che i risultati che ha fatto sono stati tutti meritati. E poi visto che in settimana purtroppo è scomparso Ventrone, so che vi conoscevate, insomma, se aveva un ricordo particolare. No, per me è stato, è stato un maestro, quando era alla Juve, lui, abbiamo vissuto praticamente lo stesso periodo, io nelle giovani lì, ma poi quando allenavo la primavera per cinque anni, ero molto a contatto con lui, è venuto a trovarmi anche qui a Zingonia, è stato qui all'Atalanta, all'epoca di Conte, quindi è stato veramente uno che ha cambiato, come giustamente è stato detto, ha cambiato il modo della preparazione nella squadra di calcio. Ha introdotto i sistemi che poi adesso magari sono passati tanti anni, sono anche stati modificati, è molto bella l'ultima intervista che ha fatto, però per me è stato un riferimento, io tra l'altro ho fatto l'Isef, e quindi mi piacevo, mi appassionavo anche al lavoro dei preparatori, ero sempre lì a seguire lui, a parlare con lui all'epoca, c'era anche Bansbo a un certo punto, a me è aperto delle strade sicuramente, è stato un riferimento importante. Buongiorno mister, torno su di lei, stamattina mister Roo, lo storico allenatore dell'Oxair, 44 anni con l'Oxair, alla Gazzetta dello Sport, diciamo le ha mandato un messaggio attraverso la Gazzetta, chiedendole, dicendole di allenare per altri dieci anni, le chiedo se è un traguardo possibile, o risponda a mister Roo. No, grazie e dell'augurio, sicuramente lo prendo per buono, poi continuare a allenare ti mantiene sempre più giovani di quello che sei, sicuramente ci sono degli esempi importantissimi nel mondo del calcio, e io cerco di inseguirne, di raggiungere qualcuno piano piano. La seconda invece, torno sulla partita affrontata una squadra molto in salute, mister, quale può essere secondo lei il pericolo maggiore, non deve essere per forza un singolo anche a livello di squadra, cioè cosa deve temere maggiormente l'Atalanta domani? L'Atalanta non deve temere niente, l'Atalanta deve andare là e fare la partita come abbiamo fatto tante volte, deve preoccuparsi delle sue forze, delle sue qualità, confrontarsi con un avversario forte, ma l'abbiamo fatto anche quest'anno, mirare a mantenere quello che di buono abbiamo fatto, di migliorare quello che di migliorabile abbiamo da fare, ma per me è molto importante vedere la personalità con cui soprattutto certi giovani affrontano e crescono e con quale capacità riescono a proporsi anche in un ambiente di così tanto entusiasmo, ma è anche vero che anche noi abbiamo tanti tifosi a seguito e siamo circondati anche noi da tanto entusiasmo, quindi spero che venga fuori, dovrebbe venire fuori una bella partita. Diretta l'altra parte. Mister, buongiorno. Domani si incontrano il secondo miglior attacco del campionato, la miglior difesa. Lei a mezzo stagione si aspettava che le cifre sarebbero state queste e soprattutto finora non avete incontrato una squadra prolifica come l'Udinese, quindi che punteggio potremmo aspettarci domani? Non so, è una curiosità per tutti, anche per noi, vedere affrontare se la miglior difesa è il miglior attacco del campionato, ma questi sono numeri ai quali ho sempre dato poco affidamento. guardo un po' la partita un po' di più dal punto di vista globale, guardando i punti di forza dell'Udinese e quello che possiamo fare soprattutto noi. Buongiorno, allora ha detto anche lei poco fa che è molta considerazione dell'Udinese, come lo stesso Napoli del resto. si parla poco o niente dell'Atalanta, questo le dà un po' fastidio che pur essendo primi si parli poco di voi o preferite viaggiare a fare i spenti? No, non è che mi dà fastidio. Probabilmente c'è un motivo, no? Probabilmente non abbiamo ancora la credibilità, la considerazione che magari si è conquistata l'Udinese, quindi è una motivazione se mai in più per cercare di migliorarsi. Se è così, probabilmente c'è anche qualcosa di giustificabile. Nello stesso tempo non toglie niente al valore di questi ragazzi di quello che hanno fatto fino adesso. Vuol dire che hanno fatto, anche con delle difficoltà, hanno fatto tanti punti, tante vittorie, tanti risultati. Quindi è un ulteriore merito a questi ragazzi. Oltretutto tutti i risultati acquisiti sul campo senza regali. Quindi non è che abbiamo avuto delle cose particolari. Poi dopo, se il nostro portiere fa qualche parata, se l'avversario sbaglia qualche gol, non è per demerito nostro. Pare che Becao sia in forte dubbio. Se dovesse mancare si potrebbe paragonare quella di Toloi, anche per il tipo di... Come tipo di... Giocano in un modo abbastanza simile, come collocazione in campo sicuro. Però i meccanismi Becao e Pereira sono stati uno dei punti di forza della decisione fino ad adesso, non? Come è quello di fatto Loi e chi giocava? Sì, devo dire che loro, anche la posizione di Pereira, spesso non è sempre da esterno. È un giocatore anche che si accentra. Loro spesso disimpegnano a quattro. Però, insomma, oggi si vede tutto. Quindi le squadre si conoscono.